Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Questo è un video che non vedevo letteralmente l'ora di registrare, perché oggi in questo video andremo a vedere insieme solamente alcune delle più interessanti uscite che ci attendono per il 2021. Nel corso delle prossime settimane arriveranno altri video di questo genere e in questo video in particolare ci andremo a concentrare su quelle che sono le uscite fantasy e sci-fi per adulti. Ovviamente ho dovuto fare una cernita di quelle che secondo me saranno alcune, ripeto solamente alcune, delle uscite più interessanti per il prossimo anno, perché comunque di nuove uscite ce ne sono davvero tante e queste sono quelle che per ora sono state annunciate, ma che appunto tra le tante che ho trovato in giro ho reputato le più interessanti e alcune di queste uscite potrebbero essere dei veri gioielli. Quindi partiamo immediatamente. Ho deciso di metterle in ordine di pubblicazione, quindi oltre al titolo, alla trama, qualche accenno, eccetera eccetera, vi dirò anche il giorno di uscita previsto. Ah, un'altra piccola parentesi prima di iniziare, queste sono praticamente quasi tutte uscite estere. Cominciamo con Persephone Station di Stina Leitch, che uscirà il 5 gennaio. Come forse la copertina, ma anche il titolo possono suggerire, si tratta di un'uscita sci-fi. Ci troviamo nel pianeta di Persephone Station, un pianeta che all'apparenza sembra piuttosto arretrato, ma che una particolare corporazione vuole andare a sfruttare per i particolari segreti che questo pianeta costudisce. Il protagonista del libro è Rosie, proprietaria di un bar frequentato da persone poco raccomandabili, come per esempio membri di brande criminali e le persone che cercano di assumere queste bande criminali. E sarà proprio Rosie che assumerà Angel, capo di una banda di criminali assassini, per andare a svolgere un lavoro che, insomma, andrà in qualche modo a smuovere un po' le cose su tutto il pianeta di Persephone Station. Quello che mi ha trattato da questo libro è stata sicuramente la copertina che non passa inosservata e anche il titolo. Leggendo la trama mi sono incuriosito, anche perché comunque quando si parla di brande criminali, assassini, io sono sempre in prima linea a vorreggere questo tipo di storia. Quindi sembra un'uscita molto interessante che appunto arriverà proprio all'inizio dell'anno. Il 19 gennaio uscirà Hollow Smoke. Si tratta di un libro che parla di divinità, la lotta tra nuovi e vecchi dei, dove la nostra protagonista è essa. Essa è una Eiji, ovvero una sacerdotessa guerriera devota e a servizio della Dea, che può trasformare le ossa dei nemici in polvere con la solo forza di un urlo. Esiliata dal suo villaggio e quindi dal suo clan di Eiji per aver ucciso un viaggiatore, essa è in cerca di perdono da parte della Dea e nel mentre una banda di predoni saccheggia e devasta il suo intero villaggio, rendendo essa l'ultima dei Eiji. E così essa si ritrova alla deriva, in cerca di una redenzione che probabilmente non riuscirà mai a raggiungere e la scoperta che gli Dei stanno lentamente morendo la spingeranno in questa battaglia, come vi dicevo all'inizio, tra nuove divinità e vecchie divinità. Anche questo sembra un titolo molto interessante, si tratta del primo libro di una nuova serie, ovviamente, e la cosa che mi ha colpito particolarmente di questa trama è proprio il personaggio di essa, che credo potrebbe rivelare parecchie sorprese, quindi anche questo me lo sono segnato perché mi interessa particolarmente. Sempre il 19 gennaio esce The Forever Sea, un titolo che dalla trama sembra molto molto originale e che mi ha immediatamente attratto per la copertina, che dice davvero tanto di quello che andremo a leggere in questo libro. Libro che è il primo di una nuova serie fantasy, dove le navi riescono a galleggiare grazie a particolari fuochi magici e soprattutto salpano proprio su mari d'erba. Il protagonista della storia è Kindred, un marinaio a bordo della sua nave, la The Herrant, e mentre è in viaggio riceve la notizia che sua nonna, la Marchese Custode del Fuoco Sacro, è misteriosamente scomparsa in mare e quindi Kindred si mette in viaggio proprio alla ricerca di sua nonna che non crede possibile si sia suicidata, come tutti dicono, ma sotto c'è qualcosa di più. Questa ricerca, questo viaggio porteranno Kindred in mezzo ad un conflitto, conflitto che ha a che fare con una mitica città pirata che fluttua oltre i mari sicuri, battaglie con le folli bestie degli abissi e un mondo nascosto proprio tra le onde del mare. Questo è un titolo che mi sono segnato immediatamente perché la trama mi intriga da morire. Sono molto molto curioso di andare a leggere questo libro che si basa proprio su questo sistema magico in cui questo fuoco sacro di cui la nonna del nostro protagonista era proprio la custode ha delle capacità molto particolari, viene usato in maniera molto particolare. Ovviamente, come ho detto all'inizio, anche per far galleggiare le navi, ma forse anche qualcosa altro di più. Sicuramente è un titolo molto curioso e non vedo l'ora di scoprirlo. Il 21 gennaio, un'altra delle uscite più interessanti per quanto mi riguarda, ovvero The Mask of Mirror. Di questo non voglio dirvi più di tanto, semmai sotto comunque vi lascio tutti i link ad Amazon se volete approfondire le trame. Questo anche perché io stesso non ho approfondito più di tanto, visto che questo libro, dalla sua semplice premessa iniziale, mi ha attratto irrimediabilmente e quindi è già segnato e non vedo l'ora di leggerlo. Si tratta del primo libro di una nuova trilogia fantasy in cui un truffatore, un vigilante e un signore del crimine dovranno unirsi, nonostante tutte le divergenze del caso, per salvare la loro città. Mi rendo conto essere comunque una premessa abbastanza telefonata con elementi che abbiamo già visto ma quando si parla di protagonisti comunque che sembrano avere una moralità abbastanza grigia, un po' sporca, che fanno comunque parte di queste bande criminali, di ladri eccetera eccetera io sono sempre a bordo, non vedo l'ora di leggerlo. Questa è una delle uscite che aspetto di più nel panorama fantasy per adulti. Passiamo a un altro titolo che non vedo l'ora di avere tra le mani, questa volta è un sci-fi e si tratta di Winter's Orbit di Everina Maxwell che uscirà il 2 febbraio. Si tratta appunto di una storia fantascientifica con tematiche fortemente LGBT+. L'impero di Iskat ha praticamente messo sotto il suo controllo l'intero sistema planetario. Il nostro protagonista è il principe Chiem, un nobile a cui l'impero vede con profonda delusione ma che verrà chiamato dall'imperatore stesso proprio per suggellare un nuovo accordo con il suo pianeta vassallo. Il principe Chiem infatti verrà costretto a sposare il conte Kainan, conte da poco vedovo di un altro principe reale dell'impero. Il conte Kainan dall'altra parte sospetta che la morte di suo marito non sia stata proprio un caso. Ma il principe Chiem allo stesso tempo non sa che il conte Kainan in qualche modo è sospettato dell'omicidio di suo marito. Ed in questo modo quando l'impero sta comunque vacillando c'è una frattura molto profonda che i due ragazzi appunto si ritroveranno immersi in una cospirazione che dovranno in qualche modo cercare di risolvere. Quando mi sono imbattuto per la prima volta nella copertina di questo titolo non ne sapevo assolutamente niente ma immediatamente ho detto questo potrebbe essere potenzialmente molto interessante leggendo la trama dove appunto tutto è queer, tutto è LGBT+, in un contesto politico fatto di cospirazioni, omicidi da risolvere ho detto ok questo deve essere un libro che leggerò a febbraio quando uscirà. Non vedo l'ora. Il 9 gennaio invece uscirà The Witch Heart di Genevieve Garnicek. Si tratta del romanzo di esordio e dell'autrice che va a reinventare, a riscrivere il mito, la mitologia nordica attraverso la storia di Angroboda che come strega viene punita dal dio Odino per essersi rifiutata di metterlo a parte di una sua premonizione sul futuro. Ed è proprio così che Angroboda ferita dalle fiamme che hanno cercato di ucciderla e che ha mandato Odino stesso troverà rifugio nel bosco dove incontrerà Loki. Sì, quel Loki. Tra i due partirà nell'immediato una relazione che inizialmente è fatta di sfiducia l'uno per l'altro ma che poi si trasformerà piano piano in amore. Un amore che porterà alla nascita di tre bambini con delle capacità, dei doni molto molto particolari che Angroboda decide di allevare al sicuro dagli occhi di Odino. E mentre Angroboda cerca in qualche modo di riprendere il controllo di quelli che sono i suoi poteri che stanno lentamente andando alla deriva scoprirà che il mondo e la sua esistenza sono in forte pericolo. Anche questo romanzo è interessante ovviamente perché si parla di mitologia nordica che io trovo sempre molto molto affascinante. Questa è una leggenda che appunto l'autrice va a rivisitare, un mito più che altro che l'autrice va a rivisitare e ovviamente abbiamo diverse personalità della mitologia nordica come per esempio Loki che molti di noi sicuramente ameranno per vie traverse ma potrebbe essere anche qua un titolo molto molto interessante. Altro titolo che mi sono segnato già da un po' si tratta di The Unbroken di C.Hell Clark che uscirà il 23 marzo. Viene descritta come una storia epica di ribellione, spionaggio, di potenze militare in un impero in rovina nel deserto. Il protagonista della storia è Turain, ragazza rapita da bambina e cresciuta per uccidere e successivamente morire nel bisogno per l'impero. Però l'unico tipo di realtà che Turain riesce in qualche modo a tollerare e a concepire è proprio quella verso i suoi compagni che vengono rimandati in patria per sedare una ribellione che è scoppiata recentemente. Dall'altra parte abbiamo Luca che sta cercando disperatamente qualcuno con un carisma tanto forte capace di influenzare i ribelli verso la pace e nel mente sta cercando anche con tutte le sue forze di spodestare suo zio dal trono. Anche questo è un titolo che ho messo immediatamente nella mia TBR futura perché mi ha incuriosito subito. Sembra molto interessante un libro ricco, ricco, ricco d'azione. Quindi vedremo come sarà anche questo. Il 13 aprile invece esce The Light of the Midnight Star. Si tratta di un romanzo fantasy storico estremamente queer quindi con tematiche LGBT che prende ispirazioni dalle fiabe e tutto viene ambientato in questo bosco ungherese dove la magia del re Salomone è molto forte nei suoi discendenti. Il rabbino Isaac e le sue tre figlie sono le persone più dotate all'interno del loro villaggio. Ma un giorno l'intera famiglia di Isaac viene accusata di stregoneria per aver salvato un estraneo e quindi sono costretti a scappare dal villaggio lasciandosi dietro anche la loro magia. Ed è proprio in questo modo, mentre la famiglia di Isaac cerca di ambientarsi a questa nuova situazione che su tutta l'Europa piano piano scende questa nube oscura. E le tre figlie di Isaac saranno costrette a fare delle scelte scelte che ovviamente poi andranno a ripercuotersi sull'intero futuro di questa famiglia. Non so effettivamente che cosa è riuscita ad attrarmi in questo libro forse ho cliccato sulla pagina proprio in vista della copertina. La trama sembra molto interessante proprio per l'ispirazione che comunque ha messo in piedi questa storia. Non lo so, forse prima vedrò qualche recensione. Mi sembra una storia che comunque ha molto a che fare con la religione sotto un certo punto di vista. Non so quanto questo sarà fondante nella trama della storia. Comunque sembrava piuttosto interessante e ho deciso di farvela vedere. E se prima abbiamo parlato di mitologia nordica, ora parliamo di mitologia greca perché il 4 maggio uscirà Ariadne di Jennifer Saint. Si tratta ovviamente di un retelling della storia del filo di Arianna, di Teseo e del Minotauro in cui seguiamo la storia della principessa Arianna di Creta, figlia del re di Minosse e tutta appunto la mitologia che c'è dietro, la storia appunto di Teseo, del labirinto, del Minotauro la storia d'amore che nascerà tra Arianna e Teseo che mi ha affascinato fin dall'infanzia. Anche questa quindi sembra un'uscita molto interessante. Sono estremamente curioso di vedere come l'autrice andrà appunto a rivisitare questa storia, questo mito e soprattutto sembra un libro dalle forti tematiche comunque femministe. Quindi mi piace, mi piace tantissimo anche la copertina e sicuramente un'uscita che terrò d'occhio. L'11 maggio abbiamo l'uscita di un altro interessantissimo libro ovvero Son of the Storm. Danzo è il nostro protagonista, è uno studente estremamente intelligente ma anche molto disilluso. Perché Danzo desidera una vita che in qualche modo vada a sciogliersi da tutti quei limiti che vengono imposti dalla famiglia e dalla politica dell'elite della città di bassa. Uno sfiraio di luce nella vita di Danzo arriva con Lilong, un guerriero ferito che ha una particolare capacità ovvero quello di cambiare pelle. Lilong dice di venire dalle isole senza nome, un luogo che fa parte delle leggende e che teoricamente non dovrebbero esistere, così come non dovrebbe esistere nemmeno la magia. Ed è in questo modo che Danzo quindi si troverà in una storia di cospirazioni, di verità nascoste in questo viaggio dove appunto ritroverà tantissima magia ma allo stesso tempo anche tanta tanta violenza. Anche questo sembra un titolo molto interessante, anche qui si parla quindi di segreti, cospirazioni. Sembra un libro, una storia estremamente violenta che comunque è riuscita a incuriosirmi tantissimo anche per questo. Quindi anche questa, Son of the Storm, è un'uscita che terrò d'occhio sicuramente. Il 9 giugno uscirà Return of the Wizard King di Chad Cary. La nostra storia parte proprio dall'ultimo re dei maghi del titolo, che cerca di tornare in patria dopo un esilio durato ben otto secoli. E per farlo dovrà manipolare una banda di mercenari, ovviamente ignari, della missione. Banda composta da tipi estremamente diversi, estremamente stravaganti, partendo da un gladiatore che ha venduto la sua anima per vendetta, un cavaliere bigotto, un nano interessato solamente a riconquistare il suo onore perso e una maga che viene definita dalla trama Too Bookish. Banda che l'ultimo re dei maghi mette insieme anche per andare a recuperare un'antica conoscenza in una rovina nella giungla. Non so effettivamente che cosa mi attratto da questo libro, ma sembra esserci un po' di tutto. Si parla di maghi, si parla di nani, si parla di cavalieri, insomma un po' di tutto, quindi non lo so, sembrava molto interessante, se non sbaglio dovrebbe essere una trilogia e quindi anche questo lo terremo d'occhio. Passiamo poi a The Jasmine Throne che uscirà il 10 giugno. Primo libro di una trilogia ambientata in un mondo che prende mano ispirazione dall'epopee dell'India e dove una principessa prigioniera e una serva che ha dentro di sé dei poteri magici proibiti si uniranno in questo viaggio, alleate per salvare il loro impero dal fratello traditore della principessa. Anche questo è un libro fantasy con tematiche LGBT+, capirete immediatamente dove si andrà a parare quindi con la tematica. Mi è sembrato anche qui molto interessante. L'ho voluto mettere all'interno di questo video perché sembra un titolo che potrebbe comunque riservare delle grandi sorprese anche per l'ispirazione indiana dalle epopee dell'India di questa storia. Quindi anche questo ce lo segniamo, molto molto interessante. Ok, questo è uno dei titoli, forse insieme a uno che vedrete tra poco, che mi interessano di più per questo 2020, almeno per adesso. Il drama di questo libro che vi consiglio di andare a leggere per capire appieno? Il libro viene descritto come Mulan, che incontra la canzone di Achille e della Miller, in una Cina alternativa. Ah, già qua, mi hai fatto tuo. Ma la trama è ancora meglio. In un villaggio colpito fortemente da una carestia ci sono due bambini. Il primo, il ragazzo, è destinato alla grandezza. La seconda è una ragazza ed è destinata al nulla. Ci troviamo nel 1345 e la Cina è sotto il controllo dei mongoli. E per i contadini delle pianure centrali, le azioni eroiche che porteranno alla grandezza possono essere ritrovate solamente appunto nelle favole, nelle leggende, nei miti. Il ragazzo e la ragazza di cui parlevamo inizialmente sono fratello e sorella. Vengono attaccati da un bandito e Zu, il ragazzo, viene ucciso e questo destino di grandezza che gli era stato promesso viene in qualche modo infranto. La ragazza, che per ora è senza nome ma tra poco ne assumerà uno, per scappare da una morte praticamente certa, è costretta ad assumere l'identità del fratello appena morto per entrare in un monastero come novizio. Ed è proprio così che la ragazza, ora Zu, rivendicherà il destino di grandezza che era stato promesso al fratello. La prima volta che mi sono imbattuto nella copertina di questo libro, ovviamente ho rimandato a un fantasy cinese, come ultimamente comunque ne stanno uscendo parecchio e sono davvero contento di questa cosa perché è comunque un'ambientazione che è una cultura soprattutto che mi interessa davvero tanto ritrovare nel fantasy che sto apprezzando davvero tanto, ma quando poi ho letto la trama mi è sembrato di respirare qualcosa di molto molto potente, qualcosa di davvero epico che non vedo l'ora di leggere. Questa è una delle uscite che attendo assolutamente di più per il prossimo anno. Il 10 agosto uscirà The Maleficent Seven, un libro che dalla trama, anche qui, l'autore ha fatto un calderone di qualsiasi, qualsiasi cosa e potrebbe essere davvero molto trash, ma forse l'intento è anche quello, non so che cosa dire. La trama, ecco, è un po' così, ma allo stesso tempo mi ha incuriosito davvero molto e quindi ho deciso di proporvelo. Black Arran è un demonologo, nonché il generale più spietato di tutta Esoran. Tempo prima Black Arran aveva radunato sei guerrieri formidabili e pericolosi per capitanare i suoi eserciti e adesso vi vado a leggere chi erano questi sei guerrieri. Un negromante, un signore dei vampiri, un semidio, un capo degli orchi, una regina pirata e così, per finire, un perverso alchimista. Ok? Alla vigilia della vittoria, in questa battaglia dove questi sei guerrieri erano usciti comunque a compiere delle imprese spaventose, Arran comunque se ne va, abbandonando così il suo esercito. E ora sono passati 40 anni da quella battaglia, da quando Black Arran se ne andò e ora ha di nuovo bisogno di questi guerrieri per combattere un'ultima battaglia. Come vi ho detto, in questo libro c'è letteralmente, ma letteralmente di tutto. Cioè, ci sono gli orchi, ci sono i pirati, ci sono gli alchimisti, ci sono i demonologi, ci sono i negromanti, ci sono i vampiri, ragazzi, di tutto. Cioè, l'autore, mancano le fate e le sirene e poi abbiamo fatto praticamente tutto. Cioè, è tutto, è pieno, è full questo libro. Non so che cosa aspettarmi perché mi sembra tanto, però, boh, la trama appunto mi ha incuriosito proprio per questo tanto che sembra nascondere e quindi vedremo cosa ci riserverà questo libro. E passiamo a un'altra delle più grandi attese del 2021 che era prevista nel 2020 e purtroppo è slittato al 3 settembre 2021 e si tratta di Empire of the Vampire di Jay Kristoff. Nuovo romanzo di Jay Kristoff, ovvero l'autore di Nevernight, che questa volta si lascia dietro gli assassini, le ombre, per parlarci di vampiri e del sacro gralla. La trama è davvero lunga, quindi cercherò di fare un rassunto più rassunto possibile per farvi capire se non conoscete questo nuovo libro di cosa parla. Ci troviamo in un mondo in cui le creature della notte, quindi i vampiri, possono camminare durante il giorno senza nessun tipo di ripercursione, quindi non vengono bruciati dal sole. Questo perché sono passati 27 anni da quando è sorto il sole per l'ultima volta. Gabriel è il nostro protagonista, è l'ultimo dei Silver Saint, una congrega che si occupa di proteggere la chiesa e il reame, ma che ora sono appunto praticamente distrutti. E proprio in questo scenario Gabriel, che viene imprigionato e accusato di aver ucciso l'ultimo dei vampiri, che verrà costretto a raccontare la sua storia. La storia della sua vita, che parte dalla giovinezza all'interno del monastero, all'amore proibito che l'ha portato alla sua fine, passando poi per il tradimento che ha portato all'enentamento dell'ordine di Silver Saint, e cosa forse ancora più importante, la scoperta del Sacro Graal. La coppa leggendaria che dovrebbe mettere fine all'eterna notte. Ma il Sacro Graal non è esattamente la cosa che tutti immaginano. Non è un semplice calice e il suo segreto si nasconde nell'adolescente Dior, con cui Gabriel comincerà piano piano a tessere un legame indissolubile. Ma il fatto è che il Graal è stato distrutto, Gabriel sta per essere ucciso, e quindi chi riuscirà a porre fine a questa eterna notte? Sarà per sempre il regno delle creature? Ovviamente questo libro, da quando è stato annunciato, è entrato immediatamente nella mia TBR, perché è Jay Kristoff, che racconta una storia di vampiri, dove c'è il Sacro Graal. Credo che anche ci sarà, ovviamente, spero, la tematica LGBT+, che comunque dalla trama ha già si annusa. Insomma, ragazzi, non vedo l'ore di avere questo libro, lo stavo aspettando tremendamente l'anno scorso, ma purtroppo poi è stato rimandato, e lo vedremo quindi alla fine dell'anno. A voglia, a voglia, però mi aspetto davvero grandi cose da questo titolo. Siamo arrivati alla fine del video, ma in verità c'è un ultimo libro, che forse uscirà nel 2021, perché quando è stato annunciato da Cassandra Clare, perché sì, si tratta di Cassandra Clare, e voi vi direte Cassandra Clare in un video di fantasy per adulti, sì, perché Cassandra Clare qualche tempo fa annunciò Sword Catcher, primo libro di quella che per ora è una duologia, abbiamo anche una copertina provvisoria del primo volume, e anche del secondo, ma che ovviamente si trasformerà, se avrà successo in una serie di 5578 libri, Cassandra Clare inizialmente, appunto, mi sono perso nel discorso, l'aveva annunciato come prossima uscita per la fine del 2021. Ora, ci sono alcune pagine che dicono che effettivamente uscirà nel 2021, poi c'è il sito di Cassandra Clare che invece dice da una parte 2021, dall'altra 2022. non ci ho capito niente, però se dovesse uscire nel 2021 cosa da prendere con le pinze, questa è un'uscita che io attendo naturalmente tantissimo. Si tratta di un high fantasy che viene descritto come un'epopea drammatica, fatta di intrighi e ovviamente di magia, che racconta la storia di un giovane ragazzo che è stato cresciuto per governare una città divisa. Insieme a lui poi ci sarà una ragazza che è destinata a riportare in un mondo dove la magia appunto sembrava scomparsa e anche di un principe che tradirà il suo popolo per vincere la corona. Tre personaggi che, secondo l'annuncio della Clare, scopriranno il lato oscuro di se stessi e di coloro che amano, mentre il loro regno affronterà la guerra, la peste e la fine della speranza, ma la notte più nera arriva prima dell'alba. Boom! Ovviamente si tratta di un libro di Cassandra Clare che per la prima volta si approccia a una storia per adulti, da quanto dice lei, dove appunto ci sarà magia, principe, principesse, eccetera, eccetera. Ovviamente se usciranno nel 2021 lo leggerò tipo nell'immediato, forse sarà la prima volta che leggerò Cassandra Clare in inglese, perché se non uscisse in contemporanea anche in Italia mi fienderò immediatamente in questo libro, quindi staremo a vedere. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Queste sono alcune delle novità più succulenti che ci aspettano per tutto l'anno. Aspettatevi appunto altri video del genere che arriveranno nelle prossime settimane. Fatemi sapere nei commenti, sono molto curioso di sapere qual è la vostra uscita più attesa del 2021 tra queste oppure altre che magari vi interessano ancora di più. Vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!